La municipalizzata Alba cambierà nome e contratto. Avrà la gestione del verde, parcheggi e cimitero. La sindaca Cecilia Francese ha quindi ridimensionato la partecipata, togliendo il servizio di manutenzione alla società in house amministrata da Palmerino Belardo. L'annuncio è arrivato ieri a Sud TV nella trasmissione condotta dalla giornalista Maria Rosaria Sica. Nuovo contratto, nuovi servizi, secondo la sindaca francese ha messo in chiaro che è evidente che la società, che cambierà nome, non è più in grado di esploitare alcuni servizi ed è costretta a ricorrere sempre agli affidamenti esterni, che sono finiti nell'occhio del ciclone perché assegnate sempre alla stessa ditta. È come se si scopre all'acqua calda, cioè nel senso Alba ha sempre e può fare quando sono sotto soglia affidamenti diretti. Questo è il motivo per cui noi vogliamo cambiare il contratto ad Alba Manutenzione, che non si chiamerà più Alba Manutenzione, perché Alba ormai non è più in grado di fare i lavori edilizia scolastica, perché quando ci affidi un lavoro è costretta a chiamare una ditta fuori. Quando dobbiamo pitturare è la stessa cosa, le strisce tu sai che spesso se dobbiamo fare, siamo ancora con dei mezzi rudimentali, quando devi fare un lavoro in grande devi chiamare una ditta esterna. Per cui con il nuovo contratto noi vorremmo affidare ad Alba essenzialmente la manutenzione del verde e la gestione dei parcheggi. Stop! È il cimitero, perché il cimitero veramente che tu sai anche lì abbiamo perso del personale, da quando c'è Alba almeno le funzioni cimiteriali vengono svolte bene, insomma c'è da dire che sono qualche mese che se tu vai al cimitero veramente è mantenuto bene, poi le criticità volendo le trovi, ma sicuramente è stato fatto un passo in avanti. Quindi queste sono le cose che affideremo ad Alba e niente altro e toglieremo le edilizie. Perché? Perché purtroppo sei costretta ad andare sempre all'esterno, perché non è in grado di poter garantire l'inizia scolastica e quando fai l'affidamento esterno sotto solle lo puoi dare a delle ditte, dici ma è sempre la stessa ditta, hanno detto una ditta quattro volte, in cinque anni quattro volte la stessa ditta non è niente, perché spesso succede che se tu devi fare un lavoro veloce e rapido ti affidi, chiami la ditta di cui hai fiducia che ti fa il lavoro fatto bene perché lo hai sperimentato, la legge lo premede.